Si sentì tutt'uno. Nelle prime ore della mattinata il capitano di corvetta Lettieri passò in tassì lungo il fronte del porto e vide che l'arsenale era occupato da due snelli cacciatorpediniere. Il tassì si fermò davanti a un cancello di rete metallica. Il capitano scese dall'auto con la sua elegante divisa, un guardiamarina uscì dalla garitta della sentinella e gli fece un saluto scattante. «Quale nave, signore?» Era la prima volta che un marinaio gli dava del signore e il capitano si sentì ridicolo. Sfiorando la visiera del berretto con un gesto distratto, rispose «Quella varata ieri. Il cacciatorpediniere a cui era stato destinato il capitano si trovava all'estremità del molo sud, affiancato ad un altro cacciatorpediniere in riparazione. Il tassì non poteva entrare nell'arsenale, il capitano pagò il tassista e varcò a grandi passi il cancello. Si diresse verso la nave che gli era stata assegnata, ansioso di vederla. Mentre camminava per raggiungere l'estremità del molo sud, scorse due pescherecci ormeggiati di fronte all'arsenale, più grandi di quanto si fosse aspettato, molto più grandi di come ricordava il peschereccio del padre, che aveva setacciato per tutta la vita il mare, per farlo studiare e farlo diventare capitano di marina. Lo assalirono lunghi pensieri. Quando faceva il chierichetto, prima di innamorarsi del mare, il capitano voleva farsi prete. Il parroco gli parlava sempre dell'amore puro, quello che rappresentava Gesù. Poi il capitano si era reso conto che le definizioni della mistica cristiana erano diventate poco utili per lui, perché aveva intuito che la mente non riceve gli ordini d'amore da una religione, ma dalla coscienza. Il capitano pensava così mentre si avvicinava al barcarizzo della nave a cui era stato assegnato. Esitò per un attimo. Arrivato all'altezza della battagliola, si fermò e salutò la nave nella direzione del mare. Zigzagando tra un intrico di manichette e cavi, raggiunse il cannoncino di prua del cacciatorpediniere, respirò profondo davanti al mare aperto e si sentì tutt'uno con ciò che gli stava intorno. Al guardia marina che ossiava lì accanto disse «Chiedo il permesso di salire a bordo». Il giovane marinaio si irrigidì sull'attenti, lo guardò sorpreso e disse «Capitano, questa è la sua nave». «Sì, ma è anche la tua, come il mare che la contiene», rispose il capitano in un afflato mistico.